Belli rega sono Arena, eccoci qua in questo nuovo video dove vi faccio vedere come sbloccare la Wonder Weapon gratis nella mappa Notte dei Morti che è uscita appunto ieri E' molto semplice da ottenere, perciò passiamo subito al primo step Per prima cosa non dovremo fare altro che dirigerci nella biblioteca e di dietro troveremo questa pistola con dei codici di sotto di 4 colori diversi Il primo colore, quello rosso, lo potremo trovare in vari spot, io ve li sto facendo vedere un po' tutti Ok, quello era il primo di quello rosso, questo è il secondo che potremo trovare sopra le scale Questo è il terzo che potremo trovare di sotto E poi il quarto spot del simbolo rosso lo potremo trovare nella sala da pranzo Ok, adesso passiamo al simbolo verde che dovremo uscire fuori nella serra per poterlo vedere Questo è il primo spot, il secondo spot lo avremo dentro questa stanza Poi accanto al perk potremo trovare il terzo spot E il quarto ed ultimo spot del simbolo verde lo troveremo qua A questo punto raga passiamo al simbolo giallo Il primo spot lo potremo trovare qui Qua raga siamo nel punto dove si va ad aprire il pack a punch Poi il secondo spot lo potremo trovare qui dietro la fine del giardino Qua c'è il terzo spot del simbolo giallo e il quarto invece lo avremo sopra quel balcone Ovviamente raga scrivetevi simbolo oppure vi ricordate a mente come facevo io Qua siamo dietro il cimitero raga, questo è il primo spot di quello blu Il secondo lo avremo sopra quella mini casetta Per dire casetta Questo è il terzo spot raga lo avremo dove c'è quella barra del leone E il quarto ed ultimo spot di questo simbolo blu raga lo avremo qui Nel muro A questo punto raga andiamo ad inserire i codici che abbiamo trovato per ogni simbolo Ovviamente raga possono essere anche uguali i simboli Però diciamo sono di colore diverso Come nel mio caso appunto Tipo c'avevo il blu e il giallo che erano uguali Però cambiavo solamente il colore Raga questa pistola è abbastanza forte e non si può modificare Perciò ci sarà qualche ministerag sicuramente per modificarlo E niente raga Ci becchiamo al prossimo video Come sempre se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi Lasciate un bel like Bella Si è avvenuta una sete micidiale Niente che una bottiglia di barbano o whisky non possa risolvere Dove tiene gli alcolici?